Buongiorno a tutto il mondo, finalmente ho rifinito il bagno, manca soltanto il silicone, ho finito le fughe, ve lo presento e poi ve lo presenterò con le fughe. Vedete tutto quello che c'era prima, non c'è più, adesso è tutto rifinito, manca soltanto il silicone che oggi farò il silicone, vedete anche sotto la doccia continua il disegno di un perimetro del pavimento nella doccia, è bellissimo. Ieri ho fatto le fughe, oggi faccio il silicone e ho finito. Domani sono a riposo, settimana prossima devo fare un biestrellato in una cantina, e poi sono a riposo per il popolo di Dio, gloria a Dio, alleluia. Qui ci viene termosifone, gabinetto e questa parte ci viene il lavandino con un mobiletto, alleluia. Vi piastro la doccia, sembra una vasca, gloria a Dio, alleluia. Avete visto che tutto quello che c'era prima è scomparso, come scompariranno tutti i nostri peccati se andiamo a Gesù, come scompariranno tutte le nostre paure, le fobie, le difficoltà. Tutto diventerà nuovo, Gesù farà tutto nuovo. Guardate anche le scine, le scine sono fatte a 45 gradi, massima pulizia. Il pavimento è fatto a gradini, 20 centimetri sul 20, vedete? La padrona è rimasta stupefatta, non vedeva di avere un bellissimo bagno come questo. Gloria a Dio. Sarà una testimonianza, figuratevi che questa padrona è tedesca ed è una dottoressa di fisioterapia. Forse mi prenderà con lei a lavorare nel suo studio, forse. Pregate per me che lei mi possa prendere nel suo studio e fare fisioterapista sotto la dipendenza di Dio e di lei. Gloria a Dio. Ha visto tante cose. Ieri sera quasi quasi si stava addormentando. Quando gli parlavo cosa faccio in TikTok. Quando ho finito, gli ho detto, adesso ho finito, lei è completamente sveglia. E quasi quasi dormiva. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Santo, 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 sei Signore. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Gloria, gloria. Gloria a Te, Signore. Nell'alto dei cieli. Alleluia. Alleluia. Ho spostato la lampadina per farvi vedere quest'angolo, la massima precisione. Alleluia. Adesso ci viene il silicone e poi faccio un altro video e ve lo mando. Pace del Signore. Dio ci benedica. Amen.